Crisi di coppia per Barack e Michelle Obama, almeno secondo quanto riportato dal tabloid americano National Enquirer. Da tempo si vociferava della gelosia di Michelle, che pare abbia raggiunto il culmine durante il viaggio in Sudafrica per partecipare ai funerali di Nelson Mandela. Secondo la fonte, Michelle si sarebbe infastidita dal tono troppo confidenziale della conversazione tra il marito e la premier danese El Torning-Schmidt. Secondo i pettegolezzi, pare che alla Casa Bianca la coppia presidenziale dorma in camere separate e che Michelle voglia chiedere il divorzio. Ovviamente aspetterà il termine del mandato di Obama. Gelosia si, ma guai provocare uno scandalo.